Santiago Ferretti per la difesa del Prato, un argentino per cercare di limitare i passivi, per cercare di essere ermetici a tutto tondo. Pronto per questa nuova avventura? Sì, sì, pronto, ci stiamo allenando, ci stiamo preparando con la squadra, con tutto il gruppo. Speriamo di fare un gran campionato, poi fare una gran preparazione soprattutto per conoscerci bene con i ragazzi e poi fare il meglio possibile. Centrale difensivo roccioso, ermetico e possiamo aggiungere che cosa? Oltre a quello possiamo aggiungere un po' di sciocco di palla, un bel tratto con la palla, personato come centrocampista a giocare a calcio al settore giovanile in Argentina, quindi ho questa possibilità anche di poter partire dal basso, quindi sempre senza rischiare troppo, però per partire dal basso è sempre una bella possibilità per la squadra per aiutare a arrivare più puliti sopra. Dal Mezzulare al Prato il salto è grande? Salto molto grande, sono molto contento dopo aver sciocato quest'anno e mi sono reso conto subito del tipo di società e piazza che era al Prato, ovviamente una piazza molto conosciuta e soprattutto adesso con la spinta della nuova società e la voglia dei tifosi di tornare in campo e tornare allo stadio, quindi sono molto contento di essere qui e pronto per dare il massimo. Difensori con il vizio del gol? Possiamo dire di sì, l'anno scorso ho avuto questa fortuna qui, ho fatto tante partite da centrocampista, che è un altro ruolo che riesco a fare, però sì, posso essere un po' amico del gol anche se sono difensore. E allora chiudiamo, visto che è argentino Santiago Ferretti, con un saluto in argentino ai tifosi del Prato. Le mando un abbraccio a tutti, lo speriamo questo anno e vamos al Prato. In italiano è la sua traduzione. Le mando un saluto a tutti, un abbraccio e forza Prato. Grazie. 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 Grazie.